Il procuratore generale della Cassazione ha chiesto di annullare la sentenza di assoluzione messa dalla Corte di Appello di Firenze il 22 gennaio del 2022 nei confronti di Fausta Bonino, l'infermiera oggi 59enne, accusata dell'omicidio volontario di una decina di pazienti ricoverati all'ospedale Piombino in provincia di Livorno, dove da anni lavorava l'imputata. In primo grado la Bonino era stata condannata all'ergastolo. Fu allora un vero e proprio caso nazionale. Fausta Bonino, arrestata nel 2016, fu accusata di aver provocato la morte dei pazienti attraverso somministrazioni di eparina. Nell'appello, la Corte ha poi assolto l'infermiera per non aver commesso il fatto, infliggendole un anno e mezzo per ricettazione, dopo che nella sua casa erano stati ritrovati alcuni medicinali. Come è noto, nel primo processo Bonino era stata ritenuta colpevole per quattro dei dieci decessi in corsia contestati.